Accordo raggiunto per le indennità degli operatori del pronto soccorso Aguato ultra dei tifosi del Fano ai rivali di Senigallia Daniele Tagliolini, ora l'ex Morselli porta il suo nome 50 aziende marchigiane nella vetrina del Vinitaly Sport Flop VL, la bis esonera brevi e chiama banchieri Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini Ben ritrovati a Rossini News, il telegiornale del canale 80 che da questa edizione, come avete già potuto vedere, si propone in versione rinnovata Nuovo studio per Rossini News, nuove grafiche e nuova sigla Una versione rinnovata che troverete, avete già trovato questa mattina, anche per quello che riguarda, buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali Vi diamo il benvenuto in questa nuova versione che parte con le mese di aprile e che inauguriamo con questo telegiornale di lunedì 3 aprile che apriamo oggi con alcune tematiche riguardanti la sanità Partiamo in un certo senso con alcune buone notizie, quelle di un importante accordo che premierà i lavoratori della prima linea dell'emergenza Un accordo che premierà il superlavoro svolto dalla prima linea dell'emergenza Una sorta di premio per i grandi sacrifici del fronte del covid, ma pure un incentivo in più a enfatizzare la missione del pronto soccorso arginando la fuga verso altre professioni sanitarie E' questo il doppio filone su cui si instrada l'importante accordo siglato fra la regione Marche e i sindacati delle professioni sanitarie regionali E' stato infatti stabilito un premio da 80 euro al mese per tutti gli operatori del pronto soccorso e del 118 come indennità per tutto il 2022 appena trascorso Riguarderà infermieri, os, ausiliari, autisti, tecnici e amministrativi che si occupano d'emergenza La regione investe dunque quasi 1.300.000 euro per coprire le indennità di quasi 2.000 lavoratori Un premio da circa 1.000 euro l'anno in attesa di una programmazione e di una regolamentazione più strutturale della categoria Restiamo in ambito di sanità In questo fine settimana il Movimento 5 Stelle ha infatti convocato una conferenza stampa in cui ha attaccato i gravi ritardi e disservizi della giunta regionale del presidente Acquaroli lanciando una nuova campagna d'ascolto per i territori E' arrivato il momento di dire che il centrodestra ad oggi ha fallito quella che era la sua missione perché come abbiamo visto le liste d'attesa sono aumentate, la mobilità passiva è aumentata La Corte dei Conti ha segnalato che stanno aumentando anche il costo delle prestazioni private e quindi abbiamo anche quest'ulteriore spesa aumentata rispetto alla giunta Ceriscioli L'apertura dei 13 ospedali promessa non è stata fatta, l'ospedale di Caglia e di Sasso Corvaro sono tuttora aperti perché in parte privatizzati e quindi c'è tutta una serie di problematiche che fanno in modo che i cittadini siano profondamente insoddisfatti Credo che la sanità sia una questione non soltanto fisica ma anche mentale e su questo aspetto in particolare visto che siamo in attesa del piano sociosanitario che doveva in base al cronoprogramma della ristrutturazione della sanità regionale essere disponibile già da ottobre e invece ancora lo stiamo aspettando pare ci arrivi a giorni Ecco, sociosanitario già sottintende ciò che fa parte della qualità della vita e cioè il benessere psicofisico Ricordiamoci che i servizi soprattutto di diagnosi e cura nell'ambito della psichiatria, dei disturbi alimentari, delle dipendenze è stato non rinforzato a causa dell'aumento di queste necessità dopo il lockdown e la pandemia ma addirittura è stato depotenziato A metà mandato niente è cambiato, anzi il quadro è peggiorato per cui come Movimento 5 Stelle iniziamo una serie di momenti informativi e di raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini facendo dei banchetti in tutte le città che ospitano un ospedale che ospitavano o ospitano guardie mediche depotenziate quindi Fano, Pesaro, Cagli, Pergola, Urbino, Mondolfo, Vallefoglia e Gabicce ci sarà a breve un calendario ufficiale in cui i cittadini che vogliono incontrarci sapranno che quel giorno saremo in quel comune Passiamo alla cronaca che si interseca allo sport gravi scontri ieri tra i tifosi del Fano e quelli della Vigor Senigaglia la rissa tra le due tifoserie è venuta attorno alle 13 nel parcheggio dell'albergo Metauro quando alcuni tifosi Granata hanno atteso l'arrivo dei rivali scortati da una pattuglia di polizia si è acceso un alterco fra le due fazioni con pugni, calci, bastonate e colpi di cintura che hanno anche immobilizzato il traffico sulla statale la polizia ha dovuto chiamare rinforzi per far fronte ai violenti scontri e arrivati sul posto Carabinieri e Celerini i tifosi del Fano si sono dileguati consentendo poi ai senigallesi di raggiungere lo stadio la polizia indaga per individuare i responsabili e combinare eventuali daspo e purtroppo continuano gli incidenti stradali nel primo pomeriggio di oggi ad Urbino in zona Sasso una macchina è finita in una scarpata per cause da accertare si sono svolte complicate operazioni di recupero e il soccorso con l'ambulanza del conducente del mezzo ferito nell'impatto altro incidente ieri sera attorno alle 23 questa volta in autostrada a 14 dove un tir si è rovesciato in prossimità della galleria di Novilara il mezzo ha perso il carico che si è rovesciato sulla strada illeso il camionista ma l'autostrada è stata chiusa per più di un'ora per le operazioni di messa in sicurezza ad un anno dalla scomparsa di Daniele Tagliolini da questo weekend c'è una scuola superiore di Pesaro che porta il nome dell'ex presidente di Marche Multiservizi e della stessa provincia di Pesaro Urbino un sognatore che aveva a cuore il territorio ecco come viene definito l'ex presidente della provincia e di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini alla cui memoria è stata intitolata Sabato la scuola ex Morselli che ospita una parte del liceo Mamiani voci rotte dall'emozione e applausi hanno fatto da cornice alla targa commemorativa posizionata all'esterno della scuola più green del territorio per la quale proprio Tagliolini fu in prima linea nella ricerca dei fondi per la ristrutturazione che oggi la vede come una delle scuole più all'avanguardia ci fa molto piacere che oggi sia stato intitolato in questo edificio questa scuola al presidente Daniele Tagliolini un presidente che è stato nei suoi anni da presidente molto vicino alle scuole a tutte in particolare questa che ha dato efficienza energetica rappresenta un po' anche il suo modo di vedere il futuro questa è una scuola che dal punto di vista energetico è completamente autonoma è innovativa in molti suoi aspetti e quindi viviamo questa giornata con il piacere di avere qui in questa Aula Magna qualcosa che ci ricordi per il futuro Daniele mi permetto di chiamarlo così era un presidente, ripeto, molto vicino disponibile in ogni situazione sempre pronto, attento alle nostre necessità, all'urgenza quindi ci fa particolarmente piacere vedere poi questa sala nuova, appena redata così riempita da persone vicine persone in situazioni vicine al presidente ci rende ancora più contenti un edificio scolastico con pannelli fotovoltaici che azionano le pompe di calore riducendo a zero i costi energetici perché questo edificio? perché questo edificio è il primo edificio Enzeb della provincia di Pesaro Urbino completamente ristrutturato sia a livello energetico che strutturale a livello sismico e strutturale è di classe quarta che significa che è un edificio strategico in caso di calamità naturale è alle porte del centro storico del comune di Pesaro e quindi è anch'esso in un punto strategico l'edificio è completamente autonomo a livello energetico con pannelli di 30 kilowatt ha la capacità di alimentare la pompa di calore sia per il raffreddamento che il riscaldamento è completamente isolato con finestre performanti e quindi con queste caratteristiche è stato classificato edificio Enzeb oltre alla targa anche un pannello realizzato da Giuseppe Rondina raffigurante il volto di Tagliolini che continua ad essere modello di ispirazione come ricordato dal presidente della provincia Giuseppe Paolini, principale promotore dell'intitolazione questa scuola deve rappresentare e rappresenta Daniele perché è stata fortemente voluta da lui è una scuola Enzeb, la prima scuola Enzeb della provincia che come è stato spiegato farla nuova è facile farla su una struttura vecchia è molto più difficile però Daniele l'ha voluta con forza penso che Daniele era un grande oltre che essere un amico è stato un grande amministratore è stato un grande rappresentante dell'entroterra era una persona che quanto la chiamavi c'era sempre e mi fa piacere di essere riuscito a costruire con lui e coltivare una cara e sincera amicizia che mi lega anche alla sua famiglia che era qua oggi ho detto che Daniele non è che voleva la luna per sé però era uno che voleva che tutti guardassero la luna questa era la grande dote di Daniele di trasmettere speranze di trasmettere progetti per il futuro e di dare largo spazio ai giovani ciao Daniele, ci manchi tanto e come avete ascoltato Scuola Morselli all'insegna della sostenibilità un tema che è stato anche trattato dal mondo industriale del nostro territorio nelle convegne ottenutosi venerdì sera dal titolo la consapevolezza dell'insostenibilità che si è tenuto a Palazzo Ciacchi di Confindustria vediamo si è un incontro importantissimo che tocca comunque tutti gli imprenditori così come la pubblica amministrazione tocca anche a me in particolare perché faccio imballaggi per cui è un tema ricorrente un tema giornaliero vediamo cosa farà l'Europa noi sicuramente siamo uno dei paesi più virtuosi gli imprenditori io credo che stiano facendo tanto e faremo ancora di più abbiamo bisogno del sostegno della pubblica amministrazione che qualche volta ha un po' di timori ad assecondarci a seguirci perché poi alla fine se non ci sostengono loro noi non andiamo da nessuna parte oggi tutti parliamo di sostenibilità parliamo di economia circolare ma se non abbiamo poi la volontà il coraggio, la determinazione di fare le selte giuste e cerchiamo di fare le selte più facili ovviamente queste belle parole di cui tanto ci riempiamo la bocca rimangono solo parole e non si traducono in quello che veramente è la necessità di un territorio adesso parliamo del nostro territorio della provincia di Pesorubino ma poi un po' di tutto il nostro paese che ha bisogno di infrastrutture e di impianti seri purtroppo la vita ci insegna è che l'uomo tende a fare le selte più facili e più rapide e non quelle giuste quelle giuste richiedono più fatica più impegno e a volte più tempo se pensiamo ai nostri antenati quanto hanno tribolato per fare il Colosseo non avrebbero pensato di farlo visto considerato che molti non l'avrebbero nemmeno visto quindi è chiaro che oggi abbiamo bisogno di guardare avanti il cambiamento climatico il tessuto socio-economico credo che richieda un impegno da parte di tutti e quindi spero che questi momenti questi eventi servano veramente a stimolare un po' in tutti in tutti i gangli della nostra società perché poi non c'è un anello debole e magari ci può anche essere un anello più debole un anello più forte però poi tutti assieme devono fare la catena e se non riusciamo veramente a rafforzare tutta la catena è chiaro che il piccolo inciampo ovviamente produce delle difficoltà e dei ritardi enormi Per quanto riguarda la sostenibilità che è un tema ormai molto inflazionato e che appartiene al dibattito quasi quotidiano è un tema che ci accomuna tutti ma è talmente vasto e grande che in questa parola si annidano anche tanti pericoli pericoli che molto spesso poi vengono scaricati su chi ha attività produttive e magari con la scusa della sostenibilità anzi che differenziare i prodotti che non rispettano le regole ambientali sociali e lavorative rischiamo che chi penalizziamo sono sempre i produttori italiani le aziende italiane e chi fa qualcosa ancora di sano e di normale mentre invece la distribuzione poi favorisce il minor costo dei prodotti o da chi riesce a produrre sotto costo e non rispettando nessuna regola quindi bisogna stare molto attenti perché anche dietro la parola così correttezza sostenibilità si annidano tanti pericoli anche nei dibattiti che vedo in termini di produzione in termini di gestione dei rifiuti in termini anche di produzione alimentare la sostenibilità è costosissima ovviamente anche materiali riciclati che spesso si può pensare che di avere un prodotto a un minore prezzo no, è un prodotto che costa di più e a questo ci dobbiamo abituare perché c'è ricerca dietro c'è un processo produttivo più lungo c'è la raccolta se non altro per creare la catena virtuosa del recupero e del riciclo è un costo però è un costo che si può fare secondo me nel tempo diminuirà molto 50 aziende vitivinicole marchigiane da ieri fanno bella mostra delle proprie attività alla 55esima edizione del Vinitaly inaugurato a Verona si tratta di una importantissima occasione per promuovere i vini della nostra regione che nell'ultimo bilancio annuale hanno registrato un confortante più 26% di esportazioni all'estero domani martedì 4 aprile si celebra la ricorrenza più importante per la confessione religiosa dei testimoni di Geova nella sala del regno di Pesaro alle 19.30 alle 21.15 e in quella di Fano alle 19.15 alle 21 si celebrerà l'annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo corrispondente al 14esimo giorno del mese lunare del calendario ebraico lo stesso giorno in cui Gesù morì nell'anno 33 l'anno scorso hanno partecipato a questo evento circa 20 milioni di persone di cui 3.000 nella provincia di Pesaro e Urbino Enrico Rossi è il nuovo segretario della Lega di Pesaro e Urbino il congresso provinciale delle Carroccio ha eletto il sindaco di Cartoceto con il 62% di preferenze da parte dei militanti leghisti ieri centinaia di famiglie pesaresi hanno affollato il parco Miralfiore per la seconda edizione di Miraviglia Mercanti in Gioco l'appuntamento ideato dalle comune di Pesaro per stimolare i più piccoli alla condivisione e al riuso di giocattoli sin dal mattino i bambini hanno allestito bancarelle per barattare i propri giochi con quelli degli altri visitatori contemporaneamente si sono svolte altre attività come arte e carità dell'associazione Don Bosco e la visita ai laghetti alla scoperta del cuore verde del parco Miralfiore parco che è stato anche luogo della installazione del 62esimo defibrillatore di Pesaro ad accesso pubblico il dispositivo automatico esterno è stato donato dall'associazione le strade di Luca al fine di rendere sempre più vivibile e sicuro il nostro territorio defibrillatore che è stato posizionato nelle piazzale del bar Serra degli Agrumi e da questo mese di aprile sono riaperti al pubblico l'area archeologica e l'antiquarium di Colombarone in questo luogo ai piedi del San Bartolo sono conservati i resti di una ricca residenza tardo imperiale sulle costrutture a partire dalla metà del VI secolo d.C. si insedia il complesso cristiano della basilica di San Cristoforo ad Aquilam domani alle ore 21 ospite della rassegna Teatro Oltre organizzata da Amat sarà Chiara Lagani che salirà sul palco della chiesa dell'Annunziata con lo spettacolo L'amica geniale a fumetti l'attrice Ravennate reciterà in scena i testi di Elena Ferrante nella riduzione che ne ha fatto per il fumetto composto assieme a Mara Cerri alle sue spalle correranno i disegni animati tratti dal libro per dar corpo e volto ai momenti evocati dalle parole del racconto parliamo anche di musica allo Stabat Mater di Antonio Vivaldi in occasione del concerto di Pasqua organizzato dal World Organ Day è stato presentato sabato nella chiesa monumentale di Sant'Agostino a riprodurre quest'opera il maestro Luca Scandali all'organo e la voce di Alessandra Visentin ovvero artisti internazionali di primo ordine veterani della rassegna organistica pesarese che da 11 anni si avvale di artisti selezionati per repertori scelti per gli organi da valorizzare e come ogni lunedì concludiamo il nostro telegiornale con le notizie sportive del weekend appena trascorso un weekend particolarmente travagliato per la VL addirittura rivoluzionario per quello che riguarda le sorti in panchina della Vispesaro una delle più brutte VL dell'anno perde uno degli scontri diretti più importanti alla Vitrifrigo Arena Trento vince senza troppa fatica con un perentorio 70-84 e mette a serio repentaglio il piazzamento playoff dei Biancorossi spingendo la Carpegna Prosciutto Basket fuori dalle prime otto seppur appaiata quota 24 punti al settimo e ottavo posto di Venezia e della stessa Trento Moritti e Tambone predicano nel deserto non aiutati dalle pessime prestazioni di Rachman e Kravic e da un day fuori condizione Trento resta avanti tutta una partita conclusa con Repescia a fare ammenda verso i tifosi per la brutta prestazione dalla VL alla Vispesero è Oscar Brevi a pagare per la piega disastrosa dei risultati dei Biancorossi il tecnico milanese è stato esonerato oggi a 30 ore dalla sconfitta per 3-0 a Gubbio in un match da bocciatura su tutta la linea che affossa la Vis mani e piedi dentro il play-out la società Vispesero oggi ha fatto una breccia nel suo silenzio stampa per comunicare di aver affidato la guida tecnica della squadra a Simone Banchieri tecnico con esperienze a Novare Prosesto il neo allenatore torinese troverà una vis scivolata al quart'ultimo posto a meno 5 dalla salvezza diretta quando mancano appena tre gare alla bandiera a scacchi della regular season nel giovedì prepasquale arriverà Limolese al Benelli in un match delicatissimo per non rendere il finale di stagione ancora più disastroso perde anche il Fano in Serie D che al Mancini cade 0 a 1 nel derby con la Vigor Senigallia sempre più seconda in classifica nel calcio 5 arrivano tre punti che danno una boccata ad ossigeno all'Ital Service che al Palafiera batte 4 a 1 i sardi del Monastir accolta con calore dal pubblico peserese e riconoscente per il secondo posto in Coppa Italia la squadra di Colini vince con merito aprendo le marcature con Pires chiudendole con Toni Dandelle e in mezzo la doppietta di De Oliveira nella pallavolo il miglior set della stagione della Megabox non basta per battere Novara che al pala a Carneroli passa 3 a 1 davanti al pubblico di Urbino più nutrito della stagione non riesce a tornare alla vittoria nemmeno la Fiorini Pesaro Regbe che con Avezzano si deve accontentare del solo punto di bonus difensivo sul campo dei Kiwi gli abruzzesi chiudono l'incontro 16 a 17 i pesaresi vedono sfumare il vantaggio guadagnato grazie a due calci piazzati nei primi 5 minuti della partita e si trovano costretti a rincorrere l'Avezzano che vince il match nel football americano dopo due vittorie arriva la prima sconfitta per i Ranocchi Angels che cedono a Roma nello scontro diretto lasciando la testa della classifica a Eleggio 13esima i capitolini vincono 21 a 14 si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News come di consueto prima dei saluti vi raccontiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata che come ogni lunedì prevede alle 21 e 20 l'appuntamento fisso con il check up obiettivo salute format realizzato dal nostro Antonio Astuti in collaborazione con Fisio Radio Medical Center ospite di questa sera sarà la testimonianza della dottoressa radiologa Valeria Consoli sull'importanza della diagnostica a seguire alle 21 e 30 approfondimento su Confesercenti Pesaro Urbino e Assotel Gabicce Mare insieme per vincere e poi lo sport questa sera con l'esclusiva di Rossini TV delle partite casalinghe della Pesaro Rugby in differita alle ore 22 potrete rivedere le prestazioni dei Kiwi Giallorossi contro Avezzano questa sera appunto alle ore 22 si conclude qui questa edizione di Rossini News vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del mattino di Buongiorno Rossini domani in diretta a partire dalle 7 e 20 e invece davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito per averci seguito per averci seguito